Quindi penso che davanti posso ricoprire quasi tutti i ruoli, è normale che prediligo più giocare nella parte sinistra l'attacco perché mi trovo molto meglio sia per andare al cross o magari per accentrarmi, cercare il dialogo con il compagno e andare al tiro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.